La tragedia a Lingua Glossa in provincia di Catania, costata la vita a due piloti. Un volo decollato dalla mezzia terme che doveva essere un intervento di routine, come ce ne sono stati tanti, in centinaia durante il periodo estivo. L'arrivo poi a Lingua Glossa per spegnere l'incendio iniziato mercoledì pomeriggio. Un volo, il rilascio dell'acqua, una virata stretta, poi la semiala destra che impatta. Particolarmente sentita la vicenda anche nel Nisseno, dove sono molti gli operatori del mondo dell'antincendio che operano sul nostro territorio e che quindi si spendono per operazioni di salvaguardia del territorio stesso e delle persone, ancor più nella stagione estiva. E mentre è stata annunciata l'inchiesta della Procura della Repubblica, i carabinieri hanno già fatto i rilievi, arriva anche il messaggio di cordoglio del presidente della regione Schifani. Esprimo profondo cordoglio per la morte dei due piloti impegnati insieme ai nostri uomini e donne del corpo forestale della regione e della protezione civile in attività di prevenzione e spegnimento. Incendi sull'Etna sono vicino alle famiglie e ai colleghi di lavoro colpiti da questa tragedia.